Siamo in un momento storico in cui la sicilità prolungata, i capaci che gli azionari stanno distruggendo i nostri ricordi. Questo significa che il ciclo verrà a mancare nelle nostre parole. Sta già mancando adesso. Perché lì dov'è? E' un po' di più. 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 Poi oggi che ti arrabbiate perché abbiamo sporcare il vento che domani sarà un libro. Ma per qualche anno i vostri figli non si fanno più mancare. Grazie. 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 Grazie.